Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema pasticcera all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti. Gli ingredienti sono latte intero, succo d'arancia, tuorli, farina di tipo 00, zucchero e scorza di un'arancia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza dell'arancia. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i tuorli, la farina, il succo d'arancia e il latte intero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo i bimbi per 7 minuti, 90 gradi, velocità a 4. Trasferire in una ciotola, lasciare intievitire prima di servire. Crema pasticcera all'arancia, ideale per farcire torte, bignè o da mangiare al cucchiaio. Si conserva in frigo coperta con pellicola a contatto per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!